L'Azio, Torino e Lecce. Lecce e Cesena. Metti che Cesena. Nel primo tempo il Como giocare meglio, soprattutto con maggiore tranquillità. Simone tre palle gol, Milton governa a centro campo. Per controllare i due Bigon presenta un Cesena coperto, Chiti al posto di Aselli, marca il brasiliano. Non c'è Dominis qualificato, lo sostituisce il giovane Masolini. Giocherà solo un tempo. Gli attacchi del Cesena sono soprattutto il frutto di una insuperabile carica nervosa, ma attenzione perché dall'altra parte c'è sempre Simone. Nel secondo tempo i cuori bianconeri battono sempre più forte. Espulsione di Calcaterra. Invermizzi, Otto del Como, scappa e regala. Il Cesena è in dieci, ma non se ne accorge nessuno. Agostini di testa. Espulsione di Todesco del Como, doppia munizione. E infine Agostini, rete numero undici e salvezza del Cesena. Penso che sia stato il gol più importante della mia carriera perché sono riuscito insieme ai miei compagni a salvare il Cesena, così rimaniamo insieme anche il prossimo anno. Non sono contentissimo, contentore. Bigong ha fatto i conti allora della classifica. Ma il segretario dice che siamo salvi, sembra proprio che sia così.